Kate Middleton ha messo in pratica il suo nuovo hobby. La duchessa, 39 anni, si unisce a celebrità come Tom Daley e Harry Styles nel suo amore per il lavoro a maglia. La futura regina ha persino tentato di fare un maglione al principe George e ha iniziato a coltivare l'hobby mentre era incinta del figlio maggiore nel 2013. Ma da allora Kate ha confessato di essere davvero pessima nell'abilità. Ho provato a lavorare a maglia e sto davvero male. Dovrei chiedere consigli. La duchessa ha detto ai fan reali durante la visita a Glasgow. Secondo El Lowe. Punto esclamativo punto. I tentativi di modellare suo figlio in un maglione non sono andati secondo i piani. Ha rivelato. Ho provato a fargli un maglione molto speciale. Ma sono arrivato a metà e si è schizzato. Ha detto Kate. È un'abilità così straordinaria. Il lavoro a maglia e all'uncinetto è diventato rapidamente un hobby molto popolare poiché la maglieria si è fatta strada nel ciclo della moda. Con star come Harry Styles che sfoggiano cardigan pesanti negli ultimi tempi, molti hanno iniziato a dedicarsi o l'hobby creativo durante la pandemia. Punto. List. Una piattaforma globale per lo shopping di moda, ha visto un enorme aumento 89% nelle ricerche di articoli a maglia e uncinetto sul suo sito web. Le Olimpiadi di Tokyo e più specificamente un evento in piscina erano forse l'ultimo posto in cui la gente si aspettava di vedere maglieria alla moda. Ma la medaglia d'oro del team GB Tom Daily ha sorpreso i fan lavorando casualmente a maglia e all'uncinetto sugli spalti mentre guardava gli altri olimpionici competere. Punto. Ha rivelato i suoi capolavori su TikTok e ha persino una pagina Instagram dedicata agli oggetti che realizza chiocciola Mad with Love be Tom Daily. Durante il suo tempo libero, il 27enne ha lavorato all'uncinetto una piccola borsa per mettere la sua medaglia insieme a un caricato cardigan con gli anelli olimpici, l'Union Jack e la parola Tokyo in giapponese.